benvenuti a tutti ragazzoli e benvenuti sul mio canale oggi ragazzi come ho visto da tutti noi e benvenuti al sole al giorno settima giornata di sera è in line domenica di quattro minuti grazie per questo ragazzo 2 è la classica ragazzi tetterna sesta vado ad risultati e poi ci vediamo quando ha l'opera di ragione in su top grazie a tutti ciao 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 ragazzi ho aggiunto i risultati dove ho aggiunto la classica buona che tra le persone o ragazzi ho aggiunto quando la classica ciao 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 ecco qua ragazzuoli ho finito di pagare la macchina questa ragazzi è quella della seconda giornata serie a team si serie a any night ma io ho fatto un gol adeggi ragazzi per lì è stata un'ottima giornata per me dei sti con il mina che ha perso con l'aprientino e la rida che ha perduto contro il cagliari contro il cagliari 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 va bene ragazzuoli quindi ragazzuoli questa è la chiesa di serie any live 2024 della settima 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 giornata quindi ragazzuoli ci vediamo domani ragazzi o dopo domani ragazzi ci vediamo domani ragazzuoli con con ah un video di fc25 e poi dopo domani con i gironi national league dopo due sole quindi perché ragazzi giocherà il 10 contro il belgio mi sembra e poi il e poi ciao valeu ciao 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 ciao